Il servizio per me è dare lustro non solo al Paese, ma al cittadino che viene in questo in questa sartoria chiamata Cucic, dove è chiamata Sartoria Exclusive Volpe, proprio perché qui hai a 360 gradi non solo le macchine, ma l'accoglienza in questa sala. Siamo forti sull'aggiustare i capi, in quanto noi abbiamo un parco macchine e dei caposarti e delle sarti all'interno in grado di utilizzare determinate macchine molto 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 ricercate, che non tutti hanno. Allora io che cosa ho fatto? Non ho solo macchine lineari per fare delle cuciture lineari, quindi la piega al pantalone e quant'altro, ma bensì anche delle macchine in grado di cucire su più tessuti, quindi su dei capi elasticizzati con doppio trasporto speciale, delle macchine diciamo delle taglie cuci, mentre che cuciano tagliano in combinazione e anche altre macchine, tipo pensate ai vestiti trasporti, c'è un cosiddetto birrino che quando si applica quella cucitura esterna e viene poi tirato il cavo finale, fallonga della cina del cavo, comunque della sciarpa, comunque del calzino e noi questo lo stiamo dando, stiamo dando qualcosa che qui non c'è. Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.